Ti consiglio di non guardare adesso. Ma lì, vedi, c'è un pescatore che si sta masturbando e crede che nessuno lo stia vedendo smanettare il suo acoso. Sì, l'ho vista anche io. Credo di avere in mano un catamarale, invece guardalo. Secondo me c'è la più piccola del mio fidanzato. Io credo che sia un vero esibizionista. Tagliamo il cintubio. Gli sputiamo addosso e gli facciamo credere che sia venuto senza godere. Non lo trovi davvero fantastico? Allora forza. Secondo me dobbiamo fare una gara di sputi cercando di colpire il suo accello. Colpire il suo accello? Sì. Ma è molto piccolo. Sì, e allora? Sì, accetto la scommessa. Bisogna mirare sulla cappella. E sputargli sulla cappella? Oppure preferisci sputare su quella mia? No. Dai, vieni con me. Sputa su quella mia. Cosa? Dai, andiamo. Vaia, no. Vaia, sì. Dai, ma cosa ti costa? Dai, dai, mi vergogno. Dai, minchia. Si fa così. Minchia, comunque è pasta. Adesso tocca a te. Tu. E chi si è sputo? Aspetta che ora ti spiego io, no? Ti ha preparato la sgraccata prima. Risucchi. Dovete come un caggiaio? Bastardo! È un po' meglio, ma non era come il mio. Vedi, il risucco deve essere più forte. Vada mia. Ne stanno da le hanno. Miascotte a te. Lei è un po' meno, ma non è la prima cosa? Calì, nella. Musica. It's mad. Ma, ma? Ma! Ma. 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 Ma.